perché questa persona queste persone stanno parlando male di te perché sei in un momento di fragilità e possono accusarti di non essere soprattutto sul lavoro particolarmente presente o meglio sembrerebbe una di quelle situazioni in cui appena l'animale forte è ferito i più deboli lo attaccano la carta però ti vuole rassicurare perché questo momento che ti butta anche giù anche l'incostanza non è solo tua potrebbe essere quella del contesto esterno quindi tu accusi il colpo di questa non stabilità ma per te è una metamorfosi quindi abbi pazienza non disperare quello che non vedi è solo assente ed assente perché deve ancora aggiungere però le carte dicono che la speranza è l'ultima a morire in questo momento non devi perderla